Il gruppo olandese Heineken ha presentato una maxi-offerta da oltre 4 miliardi di dollari per l'acquisizione dell'Asean Pacific Breweries di Singapore nell'ambito della sua strategia di espansione nella regione e nel tentativo di prevenire un'operazione analoga da parte di Thai Beverage, uno dei suoi competitori più accaniti sul mercato del sud-est asiatico. L'offerta rappresenta un premio del 45% in più rispetto alla media delle valutazioni nel corso dell'ultimo mese. Grazie a tutti.